Oh mio Dio quanto cacchio è figa Troppo figa Uno, due, tre Io sono Simone e questo è il mio Natale Ok raga, mi hanno fatto un prank Cioè basta guardare qui perché Ma raga e niente La macchina di Babbo Natale Raggiungiamo Trovami la like Per un altro video prank Ah Simone No, io non voglio No, no, no Buona visione Ciao ragazzi Io sono Yayao e questo è il suo canale Guarda la pepella così Ti prego Oh ma l'Unatalizia Oggi è l'8 dicembre ovvero il giorno in cui si fa l'albero di Natale Simone sta alla partita E' andato con Alessio E adesso riempiremo la macchinetta di luci E di tutte queste cose qua Visto che vi lamentate dei video bui Oggi Il Simone elettricista Vi ha creato una scena di un film Per riempire questa macchina Adesso Adopperiamo tutto Allora metteremo prima i festoni dentro Più, più Devi lavorare di più E che cacchio deve fare Più attimo C'ho tutto il pollo addosso C'ho tutto il pollo addosso Io volevo far presepe sul copano Vai presepe sul copano Ora mettiamo le luci Dai ragazzi Ah ma pure le luci dentro mettiamo Certo ragazzi No, stiamo fuori Lo sai come erosica Boss Sei un po' morto Non ti sento Non ti sento urlare Guardate Non ti sento urlare Non ti diamo più un euro dal canale Ragazzi da qua E' bellissima Ragazzi se lo volete affittare per Natale Babbo Natale per portare i regali ai ragazzini Sono 50 euro Con la macchinetta Con Simone dentro Quindi adesso sigla Natalizia di nuovo Bene se qualcuno che producerà una base da aggiungere a questa cosa Ebbene può scriverci a queste mail che comparirà qua E quindi adesso Hashtag time lapse Fino ad adesso abbiamo fatto questo E ora aggiungeremo altre cose Immagino la reazione di Simone Ok Quanto ci vuole Ma 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 Simone sbrocca quando vedrà lo scotch nero sopra il finestrino Io però direi di aggiungere qualche addobbo qua Perché lui arriverà dalla dietro Quindi dobbiamo mettere qualcosa qua Non lo so Che ci metto io? Io gli metto questo solo Ma che è? Bello Facciamo della simmetria proprio eh? Degli architetti siamo diventati No non lo è Guarda la forma ti dico Boss Ma perché devi far forme strane? Cioè adesso mi state a dare la colpa a me Chi è che ha voluto mettere due palle in là? Quanto ha visto il sanzichi? Io ho messo solo questo Io direi che una macchina più bella di questa non l'avevo mai vista Oh mio dio quanto cacchio è figa Quanto è camalla È troppo figa No pure dentro Bellissima Ok regà stiamo aspettando che arriva Simone Abbiamo staccato tutte le luci per evitare un cortocircuito Ok quando arriverà Simone Gli metteremo una benda in faccia Per fargli una sorpresa Che non sarà una sorpresa Ma questo è matto mi spintona Adesso basta boss Basta comandare Vabbè sta arrivando Simone che devo fare? Mi mettete in postazione? Vabbè no Simone Aspetta non puoi entrare Come sei? Simone C'è una telecamera davanti Perché ti abbiamo fatto una sorpresina Ah qua si lamentano che il video è buio Qua si lamentano che il video è buio Sti cavoli piangeranno Mettitila bene Oh ma sempre scazzato Su viva la vita Comidi Secondo me ti piacerà questa cosa Piaciuta Dritto dritto muro muro gira a destra e ho schiculo Lanciamo l'hashtag ho schiculo Ho schiculo Ok ok vieni un po' più qua Oh non guardare Non sbirciare Sei pronto? Sì Ragazzi al mio 3 accendiamo le luci eh Uno Due Tre Sì sicuramente Ma è un pene Quelle sono le idee dei boss Questa per il natale Le orecchiette di fuori No regalo scoccio Lo sapevo che mi ho detto Oh non togliere questo capolavoro Chiate Chiate Ci vuoi andare in giro con sta roba È fighissimo No no adesso metti a posto tu Oh sì Molto bello Emozionante No è veramente figo Cioè è stupendo È una cosa Cioè perché non fanno le macchine così Però sistemate E sono stanco Cioè questa è tutta la reazione Ci ha abbandonato così No io non metto a posto Ma io sono stato tre ore a mettere sei lucine Ciao Simo metti a posto Dai ciao 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 Vai 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 metti a posto Vai Tu c'hai l'idea dei video vai muoviti Oh mi fa Oh Simo Metti a posto Hashtag sei così Dai vai vai metti a posto Ma guarda che casino sta cosa Mi fate proprio schifo Vai metti a posto dai Dai su Oh Simo mi fai nervosi vai Ciao Oh Simo Oh Alberto vai Buon appetito Per questo video break Puliscono loro perché sennò Sennò ti spune sulla macchina Quindi ragazzi per questo video è tutto Vi auguro Merry Christmas Ciao 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 Ciao